I did all alright I had no need to fight Tonight, tonight Buongiorno Buongiorno, benvenuti nel mio canale Bentornati signori su Rainbow Six Oggi signori però Come vedete dal titolo non siamo su Playstation 4 Ma siamo su PC E oggi, come vedete dal titolo Siamo nella mia prima Classificata su PC Ragazzi ho 10 partite Ovviamente, cercherò Proverò se ho voglia ragazzi, sinceramente non lo so Perché tra un po' vado al mare quindi sti cazzi Però proverò a fare le 10 partite E voglio vedere quanto mi classifico Secondo me non sarà facile ragazzi Ma ci proveremo, voglio provarci signori Lasciate un mi piace, un commento Fatemi vedere se vorreste vedermi classificato Arriviamo a 30.000 like ragazzi Qua sotto in descrizione trovate tutte le credenziali del mio PC Non è questo qua Perché mi deve ancora arrivare a casa Infatti vedete che le cuffie sono diverse Ma sotto in descrizione trovate Il link al mio PC Spero di aver aggiornato tutte le credenziali Sotto tutte le cose che ho Perché ho sbagliato ragazzi Però in descrizione trovate il link A un PC che ho personalizzato io per voi L'ho reso un pelino più accessibile Ecco Rispetto a quello che ho io Però fidatevi che è molto molto figo Allora Innanzitutto partiamo subito da presun posto Che ragazzi ho provato a fare Ero a livello 18 Stamattina ho giocato un po' Ho fatto anche una parola Ho fatto 11 kill Una morte Infatti abbiamo vinto Sono stato molto contento Però non sono tutto sto lavoro Su PC ragazzi Quindi abbiate pietà È come se avessi iniziato Per la prima volta A giocare anche peggio Perché su PlayStation Sono un po' più bravo A giocare ad FPS Qua invece è proprio È come partire da capo Ecco Quindi speriamo di fare Una bellissima figura Di beccare la partita giusta Anche perché Io adesso non so Chi ho in squadra 172 21 Quindi buono Voglio vedere qua Dovrebbero essere tutti in gruppo Speriamo di no 65 Vabbè Ragazzi Comunque stiamo parlando Di livelli abbastanza alti Per il mio standard Ecco Però se sto fermo Non l'obiettivo ragazzi Nessuno mi si incula Quindi Ancora Ramabist Stai attento che questo puscia Vediamo se in gas Arriva qualcuno Stato a corto Qua c'è qualcuno Allora raga Sinceramente Non ho idea di Quale sia La miglior sensibilità Da usare Ancora non lo so bene Ok Ok Già il primo andato Secondo forse Vai che verrà Non ci ho messo Rompifiamma Mi sa No raga Sono impanicato Mamma mia Sono impanicato Silenzio Sono panicato Raga Non sapevo come stendermi Cioè ho fatto Una fatica assurda Primo round L'altro perso Raga Ti stai insomma Cioè Raga Sinceramente ho un po' Timore Di come andrà sta partita Non capisco perché Abbia smirato così tanto L'arma Mi sono trovato veramente Paranoiato Raga Devo concentrarmi Devo concentrarmi Basta Siamo seri Raga Queste sono le mie Statistiche 45 Verticale 30 Mere di precisione 35 Proviamo abbassare la 30 Eh raga io sto facendo Molta fatica Con la calibrazione di tutto Non riesco a capire Quale sia Il migliore Per me Sinceramente Allora sono là dentro Telecamera Ragazzi Non fatela Cristo santo La ci vuole Ok Levati Ah hanno baricato Ok Allora Mettiamoci Un po' così Allora Dai uccidilo Oh mio dio Paranoidi Che cazzo ha fatto E poi parlava di noi Eh Che ci ha detto Che cazzo fate Allora vediamo Se capo riesco a vederlo Che cazzo ha fatto Quell'altro Lì raga Ok Andiamo via da qua Occhio che è là eh È là raga Dai vieni fuori Di tomare cavacca Ma se mi riesci fuori da lì guardate Speriamo di no Guardate che cazzo Avevo già colpito un tot A questo eh Secondo me è qui dopo Ok Ok Mamma mia Ce l'hanno L'ho atterrato No 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 Pensavo di averlo atterrato Che mi aveva dato 50 più Non ci credo Allora signori Sono Pulse Vediamo Vediamo Ok Primo andato Ciao Bomberissimo Ok Ok è la mira raga No scusa Sbagliate È la mira che ho Dov'è che è Sono tutti là Mi ho rallentato un botto Allora Allora Proviamo a vedere se arrivano Sono sotto di me Sono sotto Sono sotto Appena li vedo salire Mi frenco dalle scale Però non credo che salgano Di qui Mi sentono Mi sentono Mi fanno Mi fanno Mi fanno Un botto Mamma mia Ui c'è un altro lì Ma siamo matti Ma erano tutti qua raga Ma perché ho ricaricato Vabbè che dovevo ricaricà Però Santo Dio Ho fatto del danno Anche a Montagne Regà i movimenti Sono quelli che sono Insomma Dai però Più che altro I movimenti È la mira Che manca Comunque sono nabbi Regà Che come cazzo Si fa a prendere Glaz Su grattacielo Questo perché Non usa No Stai fermo Non ucciderlo Dai Cosa fa Meno male Mamma che sofferenza Signori Mamma che sofferenza Guardate che carino Raga Livello 20 Colomino con la barba Che dolce Poi regà Vi voglio far vedere Quando giocherò sul nuovo Che non vedo l'ora Adesso vado un po' al mare E quando torno Dovrei avere il nuovo pc Non vabbè niente Per bookare Adesso mi devo fare Anche la roba di termite Comunque raga Sono sicuro che Gioco una settimana Tutti i giorni A rainbow per pc E penso di riuscire A cavarmela A prenderci la mano Ok Ok Non so se c'è qualcuno qui Io sto pushando All'altro ma Carriera Vaffanculo Dai ragazzi Venite a salvarmi Vedete qua E' stata la sensibilità Della mira E' stata troppo lenta Dai stupidi Fattoni Venite a salvarmi Meno male Io ci voglio provare ragazzi Non mi dite niente Ci voglio provare Caveira Proviamo a metterla a 50 La mira di precisione Aumentiamo un po' qua Anche 50 Quindi ci proviamo Ragazzi Ok ragazzi Ci mettiamo in gescia Come poi del resto Facciamo anche No è sotto Vabbè raga Non ho fatto un cazzo Qua Vabbè 3 2 signori Gabby squirting Che non ha fatto niente Mamma mia Proviamo a prendere Fuse Non lo so raga Dove possono mettersi Vediamo Se sono dove erano prima Perché prima hanno perso E' fondamentale Fuse Però Vediamo No il mirino No 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 Ah beh no Sì sì no Va bene questo Eh perché io uso L'acob su Io uso l'acob Raga Su coso Però Purtroppo siamo Siamo spawnati in una zona Un po' sbagliatina Però non ho sbagliato Sbagliatina Ok comunque Mi hanno chiesto Come mai hai fatto così tante Kill e sei a livello 20 Gli ho detto Perché sono Diamante su PlayStation 4 Che gioco su PlayStation 4 Poi mi hanno chiesto il grado Io credo che so diamante Ma non ci credono Pure Chi non mi conosce Mi sfotta Poi mi ha chiesto il grado Proviamo Andrò A fare Una cosa Invescia Bravo Fenomeno Che mi hai rotto qua Poi mi sa che non c'è nessuno Poi mi sa che non c'è nessuno Poi mi sa che non c'è nessuno Ragazzi io la coltellata Io la coltellata l'ho messa Con la rotellina Premerla Non so se ho fatto bene Magari no Magari è sbagliato tutto Proviamo C'è cavera in giro Uncora Cavera It's inside Ok Easy questa Non l'ho visto eh Però Cavera It's Inside Ok Ce n'è un altro Ok Ragazzi dai Ok bravi Ok Beh dai Regà Io credo Presumo Che come prima classificata Non me la sono cavata malissima Nel senso Sono Sono un po' così Ecco Io ne proverei a fare un'altra Giusto per essere sicuri Uuuuh Uuuuh Che malocor E ovviamente Io mi ricordo Sempre dopo Che devo mettermi Madonna Uuuuh C'è uno che mi conosce Oddio Nooo Nooo Sono tutti italiani No sono pure contro No sono in squadra Meno male Pure qua ragazzi Diamante tutto cariato Ah ok Tutti i tuoi commenti sono così Meno male Ok Io ho preso un operatore Alquanto inutile Boh Ragazzi Non vi ho messo un cazzo Di questo round Perché non ho fatto niente Fondamentalmente Ha fatto tutto Coder Ok raga Non mi uccidete Non ci arrivo Allora Proviamo entrare da qua Stai attento Stai attento Stai attento Fuori Oh fuck Un cascato Beh Meno male Dovevo bucare l'altra botola Boh Eh raga È stato molto molto easy Eh Vabbè Io con l'acogl Non l'avrei mai uccisa Con la recluta raga Non l'avrei mai uccisa Allora Mettiamo le trappole Però zio Non capisco Se devo baricare o meno Guarda te Come cazzo Mi ha shottato Questo A caso proprio Raga Ma sta cam è pazzesca Ho ferito uno Con la trappola What the fuck Boh Ah no Ho terratto Siamo già in quattro Quattro contro quattro Bene Mi sa che sono qui I fenomeni Allora Quell'altro drone Era mezzo Mordo Mezzo andato Allora Andiamo a rompere Un po' Chiazzo Eh scusami Scusa Scusa zio T'ho fregato Il coso Non c'è nessuno Nell'obiettivo Poi non è vero Un cazzo Come si faceva Così Ok Sono intrati fuori Non c'è nessuno Non c'è nessuno Nell'obiettivo Raga Ma dove cazzarola è Questo Dove cazzo è Ok Ok Fallo gabbro ti prego Fallo gabbro ti prego No Perché erano Spar Come cazzo ha fatto Neutralizzato Non ci credo Ha fatto ride Raga Non so Non so cosa è successo Perché non l'ho visto Uscire Ok raga Mi fanno un botto Mi fanno un botto Ok Mettiamo uno qua Anzi no Qua Mi fa Mi fa Mi fa Mi fa Merda 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 Oh Mio dio Non ho mai difeso Qui Niente raga Io non Non lo so Che cazzo abbia Questo Che cosa c'ha Questo fucile Qua Bella 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 Ragazzi Bella Raga Cioè Sinceramente Non sono Cioè Sono veramente Scarso Cioè Veramente Qualcosa D'imbarazzante Pacchetto Andiamo Signori Vi saluto Ciao Raga Andiamo ad aprire Il pacchettino Ok Va bene Signori Vi ringrazio Grazie a tutti Per il supporto Ci vediamo Domani Con un nuovo Video Forse Non lo so Fatemi sapere Se vorreste Vedere Qualcosina Su pc Ovviamente 30.000 like Andate in descrizione Per acquistare La mia Configurazione Con il mio set Tutto bello Con il mio faccione Incredibile Tutti i led Florescenti RGB Grande